Prova la sventagliata lunga, sbagliato, ma la mente allora Letizia incespica sul pallone, ma riesce a tenerlo, poi bade, c'è forse la spinta, arriva alla conclusione, col piatto il palo! E' il palo del Benevento! Ed eccola qui, questa può essere l'occasione che darà la scossa ai campani, il palo di Danilo Cataldi. Dopo che Letizia era stato messo giù senza il fallo, è arrivata la conclusione di piatto di Cataldi. Grazie!